Si chiama David Oliver, 65 anni di età, e avrebbe rapinato la Academy Bank, andando a minacciare gli impiegati attraverso l'uso di un'arma. Si tratterebbe di un uomo anziano con la barba bianca, vestito da Babbo Natale, il quale, ripeto, avrebbe rapinato una banca, questa banca, a Colorado Springs. Ci troviamo nello stato del Colorado, USA, due giorni in prima di Natale, ha lanciato parte del bottino ai passanti con un grido che è stato Merry Christmas. Davvero incredibile quello che si è verificato negli Stati Uniti d'America. L'uomo è stato ammanettato, non ha opposto resistenza, alcuni passanti hanno restituito i soldi alla banca, ma migliaia di dollari sono rimasti nelle tasche di chi ha ricevuto il relativo regalo. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, cari utenti di YouTube, iscrivetevi se vi va, commentate, tanti auguri di buon Natale 2019 a tutti, e al prossimo video da Leandro, narratore italiano.